Vittori e comisori sono svegliati stamani sotto il rumore delle pale di un elicottero dei carabinieri e allora i vittoriesi, così come i comisari, almeno la maggioranza, hanno capito che era in corso qualcosa di grosso e cioè una di quelle operazioni di polizia che negli anni cosiddetti di piombo erano abbastanza frequenti e in effetti si è trattato proprio di un'operazione antimafia con i carabinieri del comando provinciale e la squadra mobile, su disposizione della DDA di Catania, hanno provveduto ad arrestare diversi pregiudicati del posto appartenente al clan Ventura e accusati di associazione mafiosa, estorsione, fittizia e intestazioni di beni aggravate dalle modalità mafiosa. Durante l'operazione sono stati impiegati oltre un centinaia di poliziotti con unità cinofili di supporto e 60 carabinieri impiegati per le catture con il supporto di elicotteri. Gli arrestati sono quindi considerati appartenenti al clan Ventura, sodolizio criminale collegato come nota alla STIB. Le indagini hanno permesso di ricostruire l'organigramma del clan capiggiato dai componenti di questa famiglia e accertando che era dedito all'estorsione in danno di commercianti e imprenditori e i cui proventi venivano poi reinvestiti in attività economiche e legge. In carcere sono finite 15, 16 persone. Filippo Ventura inteso Filippo Marmararo, Gian Battista Ventura inteso Tito Marmararo, Angelo Ventura inteso Elvis, poi Angelo di Battista Ventura Uchecco, Rosario Nifosi, Francesco Di Liberto inteso Ciccio Munnizza, poi Enzo Di Liberto inteso Enzo Voi, Maurizio Angelo Cutello, Pietro Alessandrello, Francesco Battaglia inteso Ciccio Pizzetta, Emanuele Garofalo, Marco Papa, Giovanni Savio, Salvatore Macca e Salvatore Nicotra.